Musica Buonasera, nuova edizione del TV giornale di Telestense di venerdì 5 maggio. Allora, oggi anticiperemo l'ordinazione episcopale che si svolgerà domani mattina a Cremona di Monsignor Perego, la città dove attualmente si trova il nostro futuro Vescovo. Una cerimonia che noi con una troupe seguiremo e manderemo in onda domenica 14 maggio alle ore 16 e poi parleremo di una nuova rotonda che servirà per smaltire il traffico sul ponte di via Caldirolo. Parleremo anche di una lettera che il presidente della provincia Tagliani e il sindaco di Argenta Antonio Fiorentini mandano al presidente di Anas affinché paghi i lavori di Copa Costruttori e dunque vengano risarciti tutti i creditori. Qui parleremo anche di Igor e di una storia di un rapper che potrebbe avere degli intrecci con la fuga di questo killer e poi di un nuovo e futuro impianto che produrrà gas e compost nella discarica crispa. Ma non possiamo non aprire questa edizione parlando di SPAL perché c'è attesa per la terz'ultima giornata di Serie B che appunto per la compagine bianco-azzurra potrebbe significare l'attesa promozione. La SPAL infatti sarà impegnata domenica contro la Pro Vercelli e questa mattina i tifosi hanno preso letteralmente d'assalto i punti vendita allo stadio per gli ultimi 1.060 biglietti a disposizione. 1.060 biglietti che derivano dall'apertura di una parte della curva. Sentiamo. Ferrara attende il grande momento. Domenica 7 maggio per la SPAL impegnata al Paolo Mazza con la Pro Vercelli potrebbe essere il giorno dell'attesa promozione. Un evento storico che anche sulla base dei risultati di Perugia, Frosinone e Verona tutti i tifosi vogliono celebrare partecipando al Big Match. E così i 1.060 biglietti del settore gradinata messi a disposizione nelle ultime ore sono stati presi d'assalto con code iniziate molte ore prima davanti ai botteghini del Paolo Mazza. Dalle 2 stano. Dalle 2? E che numero avete? Dovremmo avere il numero 21, che ce n'erano 20, però sono venuti a prendere i biglietti ieri e abbiamo il 164. Voi a che numero siete? 88. E siete qua da che ora? Dalle 10 di ieri. Dalle 10 di ieri sera? Dalle 10 di ieri sera che diluviavano. E come è passata la notte? Bene. Però insomma comunque ce la fate voi perlomeno. Sì, sì. Sotto il diluvio però... Non dovevano dare i biglietti ieri pomeriggio. Dì. Scusa. Io sono qui dalle 3 e mezza di questa mattina. Col numero? 171. Che quindi è un numero che va in porto? Un medio, va in porto sicuramente perché fino a 265 puoi stare tranquillo e sono contento di essere qua. E come è stato passare la notte qua? Bello. Ho conosciuto tanti amici nuovi e tanti appassionati come me. Facci vedere il biglietto come testimonianza. Allora Francesco, raccontaci come è stata la nottata. Da quanto sei qua? Io stamattina sono venuto qui alle 5 e mezza. Però ho preso il numero ieri sera dalle 9. E che numero eri? 89. Vengo da Villanova Marchesana. E al numero in questo momento? 250. Quindi dovrebbe essere al limite? Al limite, sì. Va bene. Bocca al lupo allora. Grazie. Io sono venuta a prendere il biglietto questa notte a 1 e 30 circa. Poi sono tornata alle 6 e mezza, 6 e 40 questa mattina. E a 1 e mezza com'era qui davanti? A 1 e mezza non c'era tanta gente, distribuivano biglietti però ho preso il 158. Quindi erano già andati via un bel po'. E comunque obiettivo raggiunto? Direi di sì, meno male. Con tutto questo freddo anche. Va bene, grazie mille. Forza Spal. E dunque proprio febbre per questa Spal. E l'incontro Spal Pro Vercelli sarà anche un appuntamento benefico. Le maglie indossate nel corso del primo tempo dai giocatori della squadra di Semplici saranno poi messe in vendita da martedì nello Spal Store. Prezzo 120 euro. Tutto il ricavato sarà defoluto in beneficenza all'associazione Giulia e il tutto grazie al rapporto che sta consolidandosi fra la Spal e la Banca Popolare per l'Emilia Romagna. E sentiamo allora Antonio Rossignoli, il direttore territoriale tosco-emiliana dell'istituto. Per fare vedere, per capire ancora di più l'essenza che ci muove ogni giorno abbiamo pensato di fare delle cose assolutamente per il territorio, per provare ancora una volta in più che sul territorio ci siamo e non sulla parola. E' nata questa occasione che abbiamo in poco tempo colto al volo. L'occasione che nasce in tempi non sospetti, quindi non avevamo idea che la partita del 7 maggio fosse così importante come risultato sportivo per questa squadra e per questa società. Ne siamo contenti che sia decisamente importante. E' un modo di abbinare la valenza di un marchio, di un brand sul territorio. E se poi mettiamo la ciliegina sulla torta, che è il discorso, le maglie che verranno utilizzate col marchio Biper, poi verranno vendute per scopi benefici, sempre tramite la società Spal, beh è stata quella ciliegina sulla torta che ci ha permesso di prendere decisioni in poco tempo e di essere oggi qui a raccontarla. Allora, come annunciato in apertura, una solenne liturgia di ordinazione, una grande festa della Chiesa Cattolica, in particolare della Diocesi di Cremone, di Ferrara e Comacchio, quella che si svolgerà domani pomeriggio a Cremona, dove nella cattedrale sarà celebrata la cerimonia di ordinazione di Monsignor Giancarlo Perego, Vescovo eletto di Ferrara e Comacchio per Telestense. Ci sarà una troupe che intervisterà in mattinata Monsignor Perego e assisterà l'intera cerimonia, che sarà proposta in diretta televisiva su Cremona 1 al canale 211 del Digitale Terrestre e in via streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it a partire dalle 15.50. Accanto alla troupe di Telestense, con Stefano Ravaioli e Nicola Caleffi, saranno una trentina gli operatori della comunicazione presenti in cattedrale in rappresentanza di una dozzina di testate giornalistiche, in particolare del territorio cremonese e ferrarese. Su Telestense e Teleferrara Live potrete vedere indifferita l'intera cerimonia appunto nella giornata di domenica 14 maggio con inizio alle 16. Domani sera ovviamente nel nostro TV giornale un ampio servizio. Più di 20 vescovi saranno a Cremona domani in cattedrale per l'ordinazione episcopale di Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo eletto di Ferrara Comacchio e abate di Pomposa. Ordinazione che precede di poco meno di un mese il solenne ingresso del nuovo arcivescovo a Ferrara che avverrà il 3 giugno prossimo, vigilia di Pentecoste. Fra i prelati che parteciperanno sabato 6 maggio alla cerimonia ci sarà il Cardinale Giuseppe Bettori, arcivescovo di Firenze, già segretario della CEI, il Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, consacrante principale, affiancato da Monsignor Luigi Negri e da Monsignor Ditora, presidente della Fondazione Migrantes, i Vescovi Emeriti di Cremona e di Ferrara Comacchio, Monsignor Dante Lanfranconi e Monsignor Paolo Rabitti, Monsignor Annunzio Galantino in rappresentanza della CEI, conferenza episcopale italiana, i Vescovi di tante diocesi della Chiesa Lombarda ed Emiliana. A concelebrare la solenne liturgia saranno circa 150 sacerdoti, di cui una decina di rito orientale cattolico, oltre, naturalmente, a una folta delegazione cremonese e ferrarese. Tra loro anche i compagni di ordinazione sacerdotale di Monsignor Perego e i parroci di Vailate e Agnadello, da cui Monsignor Perego proviene. Consistente è anche la rappresentanza della conferenza episcopale italiana, con personale CEI e Migrantes di varie regioni italiane. Una quindicina, i diaconi permanenti. Il motto episcopale scelto da Monsignor Perego è Gaudium et Spes, titolo della Costituzione del Concilio Vaticano II dedicata alla Chiesa del mondo contemporaneo. Nello stemma dominano l'oro e l'azzurro su uno scudo di foggia gotica, tipico dell'araldica ecclesiastica, su cui, nella parte alta, sono rappresentati una lancia e una palma, simboli che richiamano la lotta contro il male e la pace del martirio e riportano a San Giorgio e a San Cassiano Martire, santi protettori di Ferrara e di Comacchio. Mentre nella parte bassa, la stella simboleggia la Madonna e le orde argente richiamano le acque del fiume Po, che unisce Cremona a Ferrara, ma anche le acque dei mari che i migranti attraversano, spesso con esiti drammatici, nella speranza di poter approdare a lidi ospitali, su cui ricominciare una vita migliore. E la fuga del killer Norbert Fair, meglio conosciuto come Igor Vaklavic, si intreccia, o si potrebbe intrecciare, con la scomparsa di un 27enne, un rapper Domenico D'Amato, che risiedeva proprio a Molinella. La denuncia arriva dal legale della famiglia dello scomparso, l'avvocato Barbara Iannuccelli. Non sappiamo se sia un'altra vittima di Igor, di certo è come un fantasma cercato solo dai suoi familiari. Dice il legale, che da qualche giorno assiste la famiglia del rapper 27enne, scomparso da un paio di mesi, visto l'ultima volta proprio nei luoghi dove, da settimane, si concentrano le ricerche del killer di Budrio e di Porto Maggiore. La denuncia di scomparsa è stata presentata il 31 marzo dal fratello ai carabinieri di Molinella, spiega il legale, ma stamattina in procura ha scoperto che non è stata ancora formalmente acquisita. Per questo di fatto, secondo il legale Iannuccelli, nessuno tranne i familiari sta davvero indagando su questo caso. Domenico D'Amato, musicista, che si faceva chiamare Dome Dama, è stato visto l'ultima volta l'8 marzo, proprio a Molinella, dove abitava e della sua scomparsa si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 a chi l'ha visto o che ha raccolto alcune segnalazioni di avvistamenti in via Zambone, zona universitaria di Bologna, e relative al 1 di marzo. I parenti non credono in un allontanamento volontario. Per un giusto processo serve la terza età del giudice, a dirlo sono le Camere Penali italiane, per questo anche a Frara da domani parte una raccolta firme per presentare una legge costituzionale di iniziativa popolare. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Puntano a raccogliere 50.000 firme in tutto il paese per arrivare ad ottenere quanto sancito dalla Costituzione, ovvero, dicono, il giusto processo fatto da un giudice terzo. Per tale motivo da domani anche a Ferrara, la campagna nazionale è infatti partita ufficialmente ieri, la Camera Penale estense inizia una raccolta firme per promuovere una legge costituzionale di iniziativa popolare, affinché si arrivi alla separazione delle carriere fra pubblico ministero e giudice. L'iniziativa l'ha presentata oggi la Presidente delle Camere Penali di Ferrara, Alessandra Palma, con i consiglieri David Zanforlini e Pasquale Longobucco. Firme dunque che serviranno per... Secondo questo progetto di legge, secondo la nostra idea, la terza età del giudice la si può raggiungere soltanto se c'è un'effettiva separazione di ruoli tra la magistratura inquirente e la magistratura giudicante. Per questo motivo si propone di creare due ordini distinti, entrambe le figure, quella del pubblico ministero e quella del giudice, rimarrebbero nell'ambito della magistratura, quindi il pubblico ministero sarebbe comunque in ogni caso un magistrato, che però ha una carriera differenziata da quella del giudice, con corsi diversi, consigli superiori della magistratura che sono competenti sui trasferimenti, sugli aspetti disciplinari e su qualsiasi altro elemento che riguardi il singolo magistrato, ma due consigli superiori della magistratura differenziati. L'iniziativa parte dalle Camere Penali, sottolinea la Presidente, non ha, ribadisce, una connotazione politica perché riguarda tutti i cittadini. È una proposta di legge esclusivamente dell'Unione delle Camere Penali, ci teniamo ovviamente a precisare tutto questo, quindi non è una proposta politica, non nasce da partiti politici, ma nasce da un'associazione che vuole consacrare nel nostro ordinamento i principi del giusto processo. Domani si parte con la raccolta delle firme e si andrà avanti per i prossimi sei mesi. Continueremo a raccoglierle per sei mesi, all'incirca. avremo un primo momento di raccolta domani pomeriggio 6 maggio con un banco in via Garibaldi numero 12, un secondo momento di raccolta firme il 9 maggio alle ore 9.30 presso l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e un terzo momento il 12 di maggio in occasione di un convegno organizzato dalla Camera Penale Ferrarese presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. Il Presidente della Provincia e il Sindaco di Argenta scrivono al Presidente ANAS Gian Vittorio Armani obiettivo concludere al più presto una transazione da 30 milioni di euro che dovrebbe servire per andare a coprire i risarcimenti dei creditori della vecchia COP costruttori di Argenta. Una lettera appello al Presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani l'hanno inviata proprio oggi il Presidente della Provincia di Ferrara Tiziano Tagliani e il Sindaco di Argenta Antonio Fiorentini. In ballo ci sono circa 30 milioni di euro che devono servire al risarcimento sia pure parziale di 10.000 creditori chirografari creditori non privilegiati in sostanza della vecchia COP costruttori di Argenta ormai fallita da anni. C'è un contenzioso in corso che vale appunto 30 milioni di euro che i commissari liquidatori di COP costruttori azienda che si occupava di grandi opere infrastrutturali stanno portando avanti nei confronti di ANAS. La lettera di Fiorentini e Tagliani è un nuovo appello lanciato al Presidente Armani dopo un analogo documento che gli è stato inviato lo scorso 22 febbraio e una lettera di sollecito dei commissari liquidatori datata 18 aprile. Arrivare al più presto a una transazione che permetta di concludere il contenzioso e quindi il recupero di una cifra importante per il risarcimento dei creditori. Gli studenti di Unif incontrano le imprese e l'obiettivo del Career Day 2017 che si svolgerà al Polo Tecnologico di Via Saragat il 16 e il 17 di maggio. Gli studenti dell'Università di Ferrara anche già laureati incontrano le imprese e questo è l'obiettivo del Career Day 2017 che si svolgerà il 16 e il 17 maggio presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Via Saragat. Al mattino le presentazioni delle aziende partecipanti al pomeriggio gli incontri faccia a faccia con gli studenti previa iscrizione e invio del curriculum. Career Day 2017 è un'iniziativa importante e fondamentale per gli studenti che possono così conoscere le imprese e farsi conoscere e apprezzare dalle imprese e possono così esprimere il loro talento. Quali saranno le imprese che parteciperanno al Career Day e come sono state scelte? Sono 36 imprese che è un numero significativo ma non enorme questo consentirà agli studenti di interagire in modo individuale con queste aziende abbiamo imprese internazionali anche multinazionali importanti da Johnson & Johnson a DataLogic il gruppo Lidl eccetera anche imprese più piccole della nostra regione e della nostra realtà territoriale. La logica generale è quella di fornire ai ragazzi l'esposizione il confronto il dialogo con una varietà di imprese di settore di offerte di prospettive di carriera perché pensiamo che la varietà dell'offerta la varietà degli incontri sia come dire positiva per produrre delle opportunità interessanti per tutti i nostri ragazzi. Come si costruisce un talento nelle università? Si costruisce osservandolo cercando di capire quali sono le sue caratteristiche le sue potenzialità stando vicino allo studente infatti una cosa sulla quale stiamo lavorando è proprio il miglioramento della vita degli studenti e delle studentesse prendendoci cura di loro in modo individuale. Cambia il traffico sulla zona insomma vicino al ponte di via Caldirolo oggi infatti in comune sono stati presentati i lavori per la realizzazione di una rotonda in via Briosi vediamo. Partiamo la prossima settimana con questo intervento di questa nuova rotatoria sempre nella zona est questa volta dopo essere intervenuti a San Giorgio e in via Pomposa interverremo nella zona di Ponte Caldirolo dove oggi l'attraversamento è regolamentato da semafori e soprattutto negli orari più caldi della giornata crea code importanti questo attraversamento che poi mettono in crisi anche il resto del sistema viabilistico della zona sarà realizzata questa rotatoria nella prima fase è prevista una chiusura parziale di via Briosi i tempi di lavoro sono 60 giorni quindi miriamo ai primi di luglio di avere il cantiere concluso e comunque nella seconda parte del cantiere proprio per limitare al massimo quello che è l'impatto sulla viabilità allisteremo già in via provvisoria la rotatoria chiuderemo toglieremo il semaforo l'impresa si chiuderà all'interno della nuova rotatoria fatta con New Jersey si realizzerà dall'interno l'intervento quindi già dalla metà di giugno gli automobilisti sperimenteranno il nuovo incrocio come se il cantiere fosse già concluso e parliamo di turismo perché sono aumentate le presenze ma anche gli arrivi dei turisti in città nei primi tre mesi di quest'anno sentiamo il turismo ferrarese continua a crescere e ad ottenere risultati importanti nel primo trimestre del 2017 si è registrato un aumento considerevole delle presenze e degli arrivi turistici a Ferrara le presenze sono state 98.467 13,6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato gli arrivi sono stati oltre 51.000 più 10,5% i dati sono stati illustrati nel corso di un incontro tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale alla presenza dell'assessore regionale al turismo Andrea Corsini dal vice sindaco di Ferrara Massimo Maisto che ha aggiunto l'amministrazione proporrà un programma triennale che fa capo ad alcuni progetti caratterizzanti il cicloturismo l'offerta del sistema museale in grande evoluzione la qualità di eventi e manifestazioni oltre allo sviluppo di un nuovo cluster turistico dedicato all'ebraismo in vista dell'inaugurazione nel museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah l'obiettivo che oggi condividiamo è di raggiungere nei prossimi anni le 500.000 presenze sarà questo il contributo di Ferrara dell'amministrazione comunale a destinazione Romagna all'organismo nato con la nuova legge regionale sul turismo che ha il compito di sostenere e promuovere i territori e la loro promozione i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali Visit Ferrara Ascom Confesarcenti e CNA hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dal settore turistico ferrarese che sa esprimere professionalità capacità imprenditoriali e una buona collaborazione tra pubblico e privato il territorio di Ferrara è stato detto saprà sfruttare al meglio ai fini turistici anche la propria vicinanza a Mantua a Venezia e a Ravenna d'altra parte ha concluso il presidente della Camera di Commercio di Ferrara Paolo Govoni la città vanta una qualità imprenditoriale e una capacità di aggregazione che possono incrementare la massa critica della destinazione Romagna allora ed ora parliamo di un nuovo impianto che nascerà a Iolanda di Savoia nella discarica CRISP e produrrà biometano e compost per l'agricoltura locale un investimento da 18 milioni di euro di CMV annunciato oggi dalla dirigenza nel corso dell'inaugurazione del nuovo sportello aperto in città vediamo arriva Ferrara con un nuovo sportello CMV energie e impianti ma non fa in tempo a sbarcare sul mercato della città che oggi nel corso dell'inaugurazione del negozio che si trova in Viale Cavour la dirigenza annuncia un nuovo investimento per CMV che la renderà un'azienda all'avanguardia nel campo dell'economia circolare una convenzione con Clara infatti sancisce per i prossimi dieci anni il conferimento di rifiuti biodegradabili circa 30 mila tonnellate l'anno nell'ex discarica CRISP di Iolanda di Savoia per produrre gas e compost per l'agricoltura locale un impianto da 18 milioni di euro per produrre dunque biometano per noi rappresenta questa quantità di metano che metteremo in rete rappresenterà grosso modo il 7 l'8 attualmente per cento del metano che noi vendiamo come CMV energie e impianti ci sarà poi anche la produzione di compost da usare nei terreni agricoli della nostra campagna nei territori ferraresi dove si è fatto nel passato tanto uso di fertilizzanti chimici avere un ammendante naturale che possa riportare una ristrutturazione con porosità e con valori biochimici che possono rigenerare il terreno è una cosa estremamente importante il nuovo sportello aperto a ferrare inoltre rappresenta un modo di CMV di essere più vicino ai residenti CMV sottolinea il suo presidente Antonio Fortini inoltre a differenza di altre aziende del settore prevede una ricaduta dei suoi profitti sui comuni che sono i proprietari della stessa CMV e quindi una ricaduta sulla collettività questo è importante perché ci differenzia notevolmente dalle altre società che hanno un aspetto privatistico e che pertanto i profitti appartengono a un dividendo azionario all'inaugurazione rappresenta anche il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani che ha sottolineato come con questa presenza il mercato si apre alla concorrenza e quindi faccia bene ai cittadini va di fatto ad arricchire l'offerta dei vari gestori che sono già presenti sul territorio da quelli nazionali a quelli a quelli locali significa che Ferrara è un mercato interessante significa anche che la concorrenza speriamo tutti produca quegli effetti benefici che noi ci aspettiamo così come ci aspettiamo che tutte le società a partecipazione pubblica abbiano un qualche cosa in più rispetto al gestore professionale di carattere privato cioè un'attenzione all'utenza una trasparenza e una modalità di approccio ai clienti di un certo di un certo tipo e c'è una notizia dell'ultima ora perché insomma è avvenuta una scossa di magnitudo 3.0 alle 18 e 25 a finale miglia il sisma è stato avvertito non solo nella bassa modenese ma anche in alcuni comuni del frarese come Bondeno e Cento e poi la capitaneria di Porto di Ravenna tramite il numero blu per l'emergenza in mare il 1530 è riuscita a mettere in salvo attraverso una segnalazione telefonica da parte dell'armatore un peschereggio della marineria di Goro il quale dichiarava che la propria imbarcazione con a bordo due pescatori entrambi di Goro era alla deriva ad una distanza di circa due miglia dalla spiaggia di Lido degli Scacchi ci avviamo verso la chiusura di questo tv giornale ma vogliamo parlare di un problema che attanaglia le nostre campagne soprattutto gli argini dei nostri canali dei nostri fiumi e sono le nutri o meglio l'emergenza nutri che è stato uno dei temi al centro della puntata di Salute 3.0 tra gli ospiti anche il presidente della bonifica pianura di Ferrara Franco dalle vacche che ha sottolineato il grave rischio idrogeologico che sta causando il piccolo castoro che ha trovato nelle campagne ferrarisi il suo abitato naturale vediamo io l'ho chiamata emergenza perché comunque Rossi è stato chiaro ha detto rischia di diventare un problema sanitario come diceva l'assessore la legge legislatura regionale ha dato delle normative normative che possono essere valutate positivamente dopo una normativa può essere anche migliorata è evidente che in questa normativa ovviamente generale trova delle difficoltà perché cito Piacenza che è all'estremo con Ferrara la realtà di un territorio come il Piacentino rispetto al Ferrarese è del tutto diversa quindi certe indicazioni certe norme a Piacenza possono essere sufficienti a Ferrara no infatti dobbiamo essere anche molto concreti la situazione è fuori controllo non c'è più equilibrio ne avevamo ne ho già accennato in una presente trasmissione la nutria ha trovato delle condizioni favorevoli si moltiplica ha una capacità riproduttiva molto importante trova condizioni di abitati ideali va bene e trova anche cibo alimentazione detto questo scava delle tane scava delle tane e infreggio ai canali e tra l'altro quando la nutria dal canale sale lungo l'argine e va in campagna per nutrirsi crea una strada si vede questo piccolo viottilo ed è diciamo l'elemento chiave per come dire preparare una frana perché quando piove specialmente in una situazione di una pioggia un po' torrenziale l'acqua si incanala in questo alveo e lì viene giù una frana le faccio una battuta io ho un'azienda agricola in valle isola verso Comacchio sono pieno di nutrie come tantissimi agricoltori la nutria prima ha colonizzato i canali consortili principali quindi ha occupato lungo questi canali si vedono tutte queste tane a un certo punto non c'è più spazio in centro non si riesce più a abitare adesso siccome gli appartamenti lungo il canale sono tutti occupati si sta spostando nella rete aziendale dei fossi che vanno dentro il consorzio quindi adesso noi abbiamo anche le nutrie diciamo nella rete poderale si stanno spostando come dire in periferia questo dà l'idea dell'incremento della popolazione allora è questo tema lo potrete rivedere nella replica di Salute 3.0 che andrà in onda domenica sera alle 22.30 ovviamente su Telestense tutto ci fermiamo qui e vi ricordo anche il nostro sito www.telestense.it arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.